Una sgambata al mare, voglia di giocare, buon pomeriggio amici dello zoccolo duro, buon pomeriggio, finalmente un po' di calcio, finalmente possiamo parlare di calcio che è la cosa poi che mi piace di più, quindi mettiamo da parte tutto il resto e parliamo un po' di calcio giocato. Mi sono visto questa sgambata, 7-0, ovviamente non contano le sgambate, amichevole i risultati, però meglio fare 7-0 che mi pare abbia fatto 3-2 l'anno scorso, che perdevamo 2-0 e abbiamo dovuto rimontare, evidentemente c'è una concentrazione diversa, quindi non contano finché vinci 7-0. Quindi continuiamo a vincerle 7-0 e poi vedi che non contano, perché se le perdi poi contano, quindi sgambata, mica sgambata, così, bene, bene, bene. Ma andiamo ad analizzare quelle che sono poi le cose importanti di questa amichevole, perché poi al di là del gol, mica gol, eccetera, eccetera, chi guarda calcio, chi vede calcio, ha capito subito delle cose importanti. Prima cosa, si gioca ancora con 4-2-3-1. Adesso non lo so se li ha messi oggi così o se sarà sempre così, però di solito Pioli quello che fa poi lo porta avanti, quindi ancora oggi io ho visto 4-2-3-1. Voi cosa avete visto? Io ho visto 4-2-3-1. Con l'off to cheek nel ruolo di trequartista, chiamiamolo così, quello lì che sta più alto, infatti andava a pressare alto quando avevano la palla di avversari. E c'era con l'unice Pobega dietro. Tra l'altro un Pobega che io dico sempre, facciamolo giocare, Pobeghino, che ce l'ha, che ce l'ha, che ce l'ha. Io non lo farei giocare nei due dietro, lo farei giocare ancora più avanti, perché lui ce l'ha il gol, ragazzi. Ogni volta che lui va avanti, a differenza di altri, fa gol, e fa gol, ragazzi. Com'è che lui ogni volta che gioca la puccia dietro? Perché ce l'ha, perché ce l'ha. Però speravo giocassimo 4-3-3 e di vedere un grande Pobega quest'anno, invece giocheremo 4-2-3-1. Quindi presumo, presumo che lo vedremo poco, come al solito. Tommaso, sempre nel mio cuore, spero rivederlo sempre più spesso. Io lo farei giocare lui, alto, al post-3-off to cheek. Però bene, parliamo amichevole, molto bene, quindi. Modulo è rimasto il 4-2-3-1. Pulisic, superlativo. Ragazzi, ma Pulisic è un campione. Cioè, nel momento in cui io, che sono critico, perché io non è che regalo niente a nessuno, sono supercritico. Nel momento in cui prendiamo Pulisic e faccio il video con scritto Pulisic è un campione, io che sono critico, non è che lo faccio per caso. Non è che regalo i complimenti io. Quando dico che, perché insistivo, 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 insistivo. Vabbè, perché continuavo a dire Pulisic, Pulisic, Pulisic? Ragazzi, questo è uno che c'ha. C'ha un altro passo. C'ha dribbin, c'ha velocità, c'ha senso del gol, palo, due assist. Ma al di là del gol che poi non ha fatto, per esempio Romero ha fatto gol, dopo ne parliamo. Pulisic, anche senza gol, ma lo vedi? Ma ha illuminato tutta la partita. Cioè, tutta la partita girava intorno a Pulisic. Un'altra velocità, testa alta, vede l'inserimento, pam, 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 pam. Un altro livello, ragazzi. Poi, sulle condizioni fisiche, oggi stava benissimo. Speriamo che i nostri preparatori lo conservino in una teca di vetro, di vetro, di vetro. Anche l'Off2Cheek l'ho visto bene fisicamente, cosa fondamentale. Non l'ho ancora visto dentro ruolo. Diciamo che lui ha avuto 3-4 occasioni per fare gol e non l'ha fatto. Secondo me, non ha tanto quell'istinto da gol, da giocare lì. Cioè, io ribadisco, con gli stessi giocatori io farei giocare Pobega lì e lui e l'Off2Cheek in mezzo. Mi è piaciuto, cioè si vede che ha tecnica, ha qualità, stoppa la palla, testa alta, ha fisico. Quando c'ha la palla lui, sembra che intorno si forma un cerchio, che tu devi stare a un cerchio di distanza da lui. Bene, bene, mi piace l'Off2Cheek. Secondo me non ha quell'istinto del gol da giocare lì, se giochiamo con 4-2-3-1. Lì ci vuole uno più che fa gol. Però, oggi Pulisic ha giocato a sinistra e lì sappiamo che giocherà a Leao. Quindi, che intenzioni ha Pioli? Se giocherà con questo 4-2-3-1, poi Pulisic farà il trequartista? E se sì, perché non l'ha fatto giocare oggi? Cioè, siccome mi è piaciuto Pulisic, no? Però l'ha fatto giocare tutto il tempo a sinistra. Pulisic, nella mia testa, penso anche nella vostra, sarà un titolare inamovibile di questo Milan. Chiunque arriverà, arriva Ciu Ciu Ciu, sarà un titolare inamovibile. Siccome non farà il titolare lì a sinistra, perché non l'hai messo già a titolare nel ruolo che farà? Vuoi fargli fare il trequartista? Vuoi farlo giocare a destra? Dove lo vuoi far giocare Pulisic? Mettilo già a titolare dove giocherà. Perché Pulisic dovrà giocare tutte le partite? Caro il mio Stefano Pioli. Quindi, benissimo. Non ho capito perché ha giocato lì a sinistra. Eh, perché non mancava gioco. E che cosa frega? Mettevi Messias, che tanto doveva andare via, lo mettevi a sinistra e Pulisic lo mettevi a destra. Oppure lo mettevi comunque a trequartista e mettevi un altro a sinistra. Cioè, metti già i giocatori nei ruoli dove li vuoi far giocare. Love to Cheek, se gioca Pulisic trequartista, giocherà dietro? Quindi perché oggi gli hai fatto fare trequartista? Cioè, non ho capito realmente poi i ruoli che vorrà far fare Pioli. È una sgambata, è un amichevole. La mia non è una critica. È solo cercare di capire cosa c'è nella testa di Pioli. Ok? Poi, per quanto riguarda Sportiello, non è stato praticamente impegnato. Abbiamo concesso due palle gol che non mi sono piaciute, però va bene. Cioè, c'è una buona amichevole estiva. Romero non mi è piaciuto. Romero non mi è piaciuto. A parte c'è la gobba. E gioca con la gobba. Sì, ci avevamo il coso per misurare. Lì, l'avevo, il coso che ha bisogno di passi. Che non so neanche i valori sanitari. Non so, ma che cosa misura quella roba lì. Però non mi è piaciuto. Cioè, lo mettevi lì nella primavera, puoi giocare nella primavera. Non mi ha detto niente. È una prima amichevole. Avrà tutto per farsi vedere. Per me i giovani così vanno sempre presi. Perfetto. Oggi non mi è piaciuto. Per il resto, bene. La difesa ha tenuto bene. Messias, anche lui, ha fatto un gran gol. Diciamoci la verità. A questi livelli Messias fa vedere la differenza. Bomber Colombo, che timbra la doppietta come terzo attaccante. L'italiano nelle liste, perfetto. Non si tocca. Quindi io lo terrei, non lo manderei in prestito. Perché nel momento in cui tu hai messo fuori rosa Rebic e Orichi, oggi non l'hanno fatto neanche un minuto. Hai messo tutta la primavera. Cioè, lascia stare la tournée americana. Oggi hai fatto giocare tutta la primavera e Rebic e Orichi non hanno giocato neanche 20 secondi. Quindi sono fuori rosa. Sono ufficialmente fuori rosa. Ultimo dettaglio. Adli. Io gli voglio bene a quel ragazzo lì. È un vecchio cuore. Gli voglio bene a Yassin. È proprio un ragazzo che si fa voler bene. Gli voglio bene. Mi piace anche come giocatore. E Pioli non lo vede. E Pioli non lo vede. Non lo vede. L'ha messo lì con la primavera, giusto perché lo doveva. Non lo vede Pioli. Non lo so. Non lo vede. Non lo fa giocare mai. Per dirti. Lì dove ha giocato l'off to cheek. Perché non fai giocare adli. Che ruolo suo. Ma nemmeno quando è uscito l'off to cheek. Cioè. Nemmeno con la primavera l'ha messo lì nel ruolo suo. Perché l'ha messo comunque mezza alla sinistra. Quindi. O forse era in quel ruolo e non l'ha fatto bene. Non si è capito. Perché poi quando c'era la primavera non è che si è capito tantissimo. Comunque ragazzi. Molto bene la prima sgambata. Bene di testa. Ragazzi concentrati. Fantastico Pulisic. L'off to cheek bene da capire dove lo vorrà far giocare Pioli. Andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Adesso purtroppo le amichevoli quelli in America giocano alle 4 del mattino. Difficilmente riuscirò a vederle. Guarderò gli e-lights. Vedremo. Iscrivetevi al canale. Mettete un bel like. Ci vediamo domani. Ciao belli. Ciao.